musica è la famiglia questa C'è a noi che vado a salutare, siamo sempre nelle vetture in R5, settima posizione all'erba, così come quindi trasporta pari pari nella classifica della classe all'idea del campionato. Anche per lui novità il Rally del Taro? È una novità anche per noi il Rally del Taro, arriviamo da un'elba un po' amaro, dopo mille cose andate male, però come tutti abbiamo voglia di riscatto e la concorrenza è guerrita, c'è pieno di giovani che hanno voglia di far bene. E quindi come la mettiamo sta cosa alla fine? C'è la voglia di riscatto ma tanti giovani e tu? Sono giovane anch'io. Punto. Anch'io. Quindi? Quindi domani si accella. Oh così mi piace, bravo. Vai noi. La metteva dubitativa. Lumia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.